rieccoci amici su europa universalis 4 di nuovo con la superba genova e si torniamo a casa alleccarci le ferite costo dei mercenari abbiamo perso l'effetto delle delle guerre italiane o no no il 22 per cento peccato però questo è un problema la castiglia allora vediamo un pochino che cosa vuole la francia no non vuole nulla però è molto interessata a milano e ai territori borgognoni dai su che ce la fai allora il papato è alleato con man man trova cose cose varie scusa ma qualcuno non può dichiarare per caso guerra al papa così sta occupato e io certo che 50 anni sono tanti però c'è sempre il problema ottomano che potrebbero mangiarsi di cipro e medina con le missioni province trade power at least 16 60 genova guadagno su in sia prigionista lucca non devo essere parte dell'hre l'anno deve essere 1500 e l'austria guadagno un claim per una super rara puramente commercio allora scusa un attimo ma a chi posso ah contro i mereti invita in tutto trade league ah io ah non ho un diplomatico mantola disanzio potrei invitare siena poi ok allora però ecco c'è questo bel problema stability cost modifier allora vi è un bisanzio mission 3 recover grass ah dovrebbe rimanere ortodosso però niente vieta che sugla e cocaele li riprendo e poi qua non richiede più sia ortodosso e avrei un bel po' di claim gratuiti re-establish the term system e diventerebbe praticamente un bel vassallone o p l'iguo cioè nizza è della mia stessa cultura e religione quindi non avrei nessun problema quindi allora ah magnifico 13k oh bene perché devo ah perché siamo in tempi dentro l'hre ah ecco rivale più 25% senti ma se io ecco più 001 così veloci c'è un po' perché ecco mi sta leggermente dando fastidio abbassiamo anche l'inflazione con 75 punti diplomatici e vediamo un pochino la tecnologia ah stiamo indietro un po' specie in quella militare che è importante allora nel 57 la potrei ricercare ok ah non l'ho usato costa due punti mentre sto in giro quindi la togliamo mantenimento dei forzi advisor ok inizia riportiamo il mantenimento al massimo e calciamo via l'advisor tecnizza esaurimento di guerra però verrebbe per per un po' di terra ok su vai al massimo di ok non è ancora al massimo quindi scusa ma posso vedere il tuo eh ma lui ha un punto ok 10 prestigio in meno allora esaurimento di guerra lo ha ah il 44 di di revancismo allora tecnizza ok per 10 favori allora lo togliamo momentaneamente da bisanzio e ti chiediamo guerra anzi no attacchiamo l'oro ottimo ok un cardinale in svezia ok ok allora ok allora senti voi andate andate qua così butto giù questo muro e prendiamo subito Luca a ne ho bisogno di 300 quindi eh l'oro possono anche tornare a a commerciare 13 18 24 ah 26 Alessandria 21 tornate ad Alessandria e si torna a dai oh dai 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 cadi 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 senti no meglio di no tradizione delle armi sono venuto di guerra bene dai 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 ah marketplace ok ora possiamo costruire un mercato 009 perché blockading for import vassalli commercio però come sì sì passa tanguella contro venice nazzo e compagnia bella stato pontificio keep vita seba ok allora com'è il mio re sovrano ah è un 6 6 6 3 buono allora 82 stabili cross modifier ok la circassia ha sobbicato un claim peccato esaurimento di guerra dai venezia su dai attacca qua e metti ko lo stato così poi posso subito dichiarare guerra all'epiro e prendermelo ai ai vediamo un po' ah vediamo un po' ora se non ci vengono più benissimo take core atene bene no scusa bisanzio vai la no no l'hanno preso i cavalieri no stupida ià che si è fatta fregare dai e faccio quale ah ok posso costruire le chiese ora bene allora dai che ce la fai dai 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 14% rotta alleanza militare fra austria e e coso se io lo rendessi vassallo invece che farlo nettere ok occuperei un altro slot ma avrei tutte queste tre province e sarei direttamente in guerra contro il loro genova no vanno scusa vediamo me stesso si l'ho messa come principale benissimo ok tu vai la ah ok take it conquest ah no questa magnifico il denaro è denaro vecchio nuovo localman power port cosa albenga lo local production fin fin ok ok dai oh dai 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 cadi 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 oh lucca è finalmente caduta oh realmente allora da quanto tempo sto registrando a 22 minuti mai doge mai doge aia 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 torniamo a casa e non ho perso navi fortunatamente allora facciamo la pace con lucca magnifico ok e subito ne facciamo il core magari appena si aggiorna ma no è mia scusa ma ma non c'era la cosa che se che ovviamente ero in guerra non ok dai dai su 8 monferrato allora andrei in coalizione con con quasi tu con mezzo mondo così no allora soldi allora riparazioni di guerra no allora le riparazioni di guerra liberi genova e il monferrato no solo il ok tolgo quelle due e ok allora dichiarato ah 72 dai ok oh guerra finita tu torni a casa e out a jet country è così è così fatto con la pace o meglio con la quasi pace ci prepariamo a andare poi qua ma questa è per il prossimo episodio ciao ciao